Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata del Floriana TV. Questa settimana ci trasferiremo in una location molto particolare qui al Floriana Lagoon, ovvero il Laguna Restaurant. E' un'offerta aggiuntiva che il Floriana Lagoon propone ai propri ospiti su prenotazione. E' fruibile solo a cena nelle serate del martedì e del giovedì dalle ore 20 alle 22.30. Si differenzia dagli altri tre ristoranti del resort per la possibilità di scegliere fra quattro menù. Tre a base di pesce, una a base di carne e uno speciale menù pensato per i più piccoli. A base di pesce, una a base di pesce. Garantiamo ai nostri clienti pesce e frutti di mare di giornata. Pasta fresca fatta in casa dai nostri chef italiani, una selezione di vini locali e, per il dopo cena, di liquori internazionali. A base di pesce, una a base di pesce, una a base di pesce. A base di pesce, una a base di pesce, una a base di pesce. A base di pesce, una a base di pesce. E dal Laguna Restaurant non mi rimane altro che augurarvi buon appetito!